Ormai lo sappiamo, cari amici, ormai sappiamo un po' di tutto, e allora Sonia Bruganelli sappiamo che appunto è assente per diverse puntate del grande fratello VIP. Colpa il Natale, cioè colpa, come se ce ne fosse colpa. Ad annunciare questo è stata la stessa moglie di Paolo Bononis, perché la donna si scopre passerà il Natale negli USA per stare insieme alla sua famiglia, e non è nemmeno la prima volta che capita una cosa simile. Anche l'anno scorso, sempre in occasione dello stesso periodo, la donna era partita per gli States per passare le vacanze proprio lì. Diciamo che in quell'occasione al posto suo, insomma, era venuta sempre per qualche settimana la bella e brava Laura Freddi, quindi ci chiediamo se anche quest'anno ci sarà una sostituzione, certo non è che ci debba stare per forza Laura Freddi di nuovo. Qualcuno avrebbe azzardato a prendere momentaneamente il suo posto, ci avrebbe pensato infatti Giulia Salemi. Ma come sappiamo, l'ex Geffina è già presente in studio e ha un compito non molto diverso da questo. Qualcun altro azzarda che a prendere il posto di Sonia potrebbe essere Eleanor Ferruzzi, ma sarebbe davvero pronta per un compito così arduo? Altre grande ipotesi, tutte da confermare, certo assolutamente, ma perché ha un suo perché, che è quello di vedere seduta lì proprio Adriana Volpe. In effetti sarebbe un colpaccio per Alfonso Signorini, visto il cattivo sangue che passa proprio tra le due. L'indiscrezione, lanciata da People TV, non ha visto però nessuna conferma della diretta interessata e tutto nasce semplicemente da alcuni rumor, che potrebbero rimanere tali e basta. Il caso ha voluto che la Volpe si trovasse a Cortina d'Ampezzo per un evento a cui hanno partecipato anche Alfonso Signorini, Alex Belli ed Elia Duran. Quindi per questo motivo, e molti hanno creduto, che in realtà i due si fossero incontrati per discutere di lavoro. Poco dopo però la Volpe ha fatto chiarezza sulla vicenda, spiegando che non sarà lei a sostituire la collega. No, no, non sostituisco nessuno, come già detto quando andai ospite al grande fratello Vip, come per dire, guarda che io già l'ho detto che non ci vengo. Niente da fare quindi, tutti quelli che sognavano di vedere lontana la Bruganelli dal programma dovranno attendere ancora un po'. Per il momento, almeno per quattro settimane, al suo posto ci sarà qualcun altro e poi alla fine della fine della fine, la sostituta la scopriremo soltanto quando il grande fratello deciderà di confermare quel qualcosa che bolle in pentola. Quindi per ora rimarremo nel dubbio. Io vi ringrazio per l'ascolto di questa news. Noi ci sentiremo alla prossima, come sempre, su Pausa Caffè.